E poi qual'è secondo me la forza della televisione che verrai sempre ricordato? Perché tu quando sei in televisione è come se sei dieci gradini in più degli altri, no? Tu invece cosa fai? Quando sei una ragazza gli dici, tu cosa fai? E faccio l'operaio e tutto il giorno sto sul tornio sporco dal lavoro di meccanica e ovviamente dopo loro cosa fanno? Ok, ciao!